Con il mese di luglio oramai si entra nel vivo della stagione MLB e dunque prima della pausa dello Star Game che ci sarà tra due settimane andiamo a fare un primo bilancio di questa metà di stagione analizzando le squadre, le vittorie, le sconfitte più importanti e facendo un bilancio anche di quello che sarà la seconda parte di stagione. Dunque appuntamento ancora una volta molto corposo per quanto riguarda la Major League Baseball Review, il mio appuntamento mensile sul canale sportivo dedicato al meraviglioso gioco del baseball. Ancora una volta la grafica ci darà una mano prendendo spunto dal sito dell'MLB e da altre notizie di altri temi molto interessanti di cui ci sarà di parlare al di là dei record sul campo. Poi in particolare presenteremo anche l'All Star Game di Denver Colorado, parleremo della no hit combinata dei Chicago Cups e parleremo anche dei tantissimi controlli della direzione arbitrale sui lanciatori dal momento che, vista le prestazioni di maggio in particolare dove ci sono state tantissime no hit, la MLB ha dato un giro di vite sostanzialmente ai materiali dei lanciatori che sono sempre più soggetti al controllo da parte degli arbitri. In alcuni casi si arriva addirittura all'inverosimile ma ne parleremo ovviamente di un articolo dedicato. Prima però di andare a vedere ovviamente le classifiche aggiornate a ieri, quindi il primo luglio 2021, parliamo di una impresa sportiva che si è consumata nella paria tra Chicago Cups e Los Angeles Dodgers con la prima no hit combinata della storia dei Chicago Cups. Ancora una volta dunque una formazione della MLB completa una partita senza concedere valide alla squadra avversaria ma è la prima volta in questo caso, in questa stagione e nella storia della squadra della Wendy City che effettivamente una no hit viene fatta combinata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che più lanciatori hanno tenuto a zero l'attacco avversario e dunque viene classificata come appunto no hit. Nella maggioranza dei casi abbiamo visto già anche nel mese di maggio come queste no hit erano classificate appunto come no hit tradizionali visto che il lanciatore che iniziava la partita poi la concludeva quindi era anche una partita completa. Qui invece sono alternati quattro lanciatori per tenere a zero un attacco dei Los Angeles Dodgers che evidentemente non ha collezionato la miglior prestazione della stagione. Peraltro i Dodgers sono ampiamente sotto le aspettative considerato che sono la squadra obiettivamente che ha il monte stipendi più alto e che con credenziali anche molto molto valide partiva sicuramente per andare addirittura a ripetere il titolo vinto nella scorsa stagione nella finale di Texas contro i Tampa Bay Rays. E' comunque un segnale che i Chicago Cubs in questa stagione stanno comunque risollevandosi una division che vedremo tra poco è molto competitiva ma appunto questa prestazione che appunto è finita come vediamo dal tabellino 4 a 0 per appunto la formazione di Chicago da slancio alla formazione della Windy City per arrivare quantomeno a lottarsi i playoff con delle squadre comunque al loro livello. Ed è un segnale per i Dodgers che ancora una volta stanno prendendo paga dai San Francisco Giants delle meraviglie che hanno trovato peraltro in un giocatore di riferimento una prestazione sontuosa ma ovviamente ne parleremo. Questo è il tabellino appunto della parola della Noite combinata sono otto vaide a tabellone per quanto riguarda i Chicago Cubs per quattro punti totali. La lunga decisiva arriva tra il sesto e il settimo inning dove appunto arrivano i tre punti su quattro decisivi per la vittoria che va a Zach Davis un lanciatore che non è proprio famoso per tirare delle sassate terrificanti come la maggioranza dei lanciatori di questa Major League Baseball. Ma è più uno scienziato del gioco un lanciatore che va al controllo come punto di forza anziché la potenza sfrenata. È una vittoria importante per i Chicago Cubs ed è appunto la Noite combinata perché come vediamo dal tabellino della partita prendendolo come spunto dal sito della CBS appunto sei inning li lancia Zach Davis. Un inning a testa poi vengono lanciati da Ryan Tepera, Andrew Chaffin e Craig Kimbrell e dunque a statistica ci sono degli holds per quanto riguarda Tepera e Chaffin visto che il vantaggio era inferiore ai 5 punti ed è poi la chiusura definitiva per Craig Kimbrell che lancia il nono e ultimo inning come oramai tradizione di un closer. Al netto che Kimbrell non prende comunque salvezza è indicativo di come la sua media punti vane sul lanciatore che vediamo qui indicata con la sigla IRA sia evidentemente di 0.59 una media che semplicemente è fantascientifica un po' come quella di The Grom ma The Grom ovviamente ne parleremo quando parleremo dei New York Mets. È la prima sconfitta in stagione per Walker Buller che comunque ha una stagione anche lui di spessore assoluto perché parliamoci chiaro 7-20 è una persa con una media IRA di 2,51 è una stagione veramente da Walker Buller che è uno degli assi sul monte della formazione losangelina però qui ovviamente è incappato nella serata no può capitare a tutti che comunque alla faccia della serata no perché comunque concede sì è vero soltanto 3 punti che comunque rappresentano una partenza di qualità considerato che appunto ha lanciato 6 inning che ha concesso 3 o meno punti peccato che 3 di quei due punti sono appunto semplicemente fuori campo anzi 2 di quei 3 ovviamente fuori campo peraltro di Wilson Contreras e Averbaez per i Chicago Cubs invece come vediamo dal tabellino di Davis ci sono 6 inning lanciati 4 stack out e 5 basi ball per una stagione in realtà abbastanza alternante di Davis che comunque ottiene la quinta vittoria in stagione ed è positivo per lui avere ovviamente un record sopra al 50% di vittoria parlando ovviamente di lanciatori ovviamente parlavamo dei fuori campo di Baez e Contreras sono il 17esimo per El Mago e il 13esimo per Wilson Contreras in una partita che ha visto in quel caso la 42esima vittoria dei Chicago Cubs contro la 31esima sconfitta dei Los Angeles Dodgers sono due divisioni entrambe assolutamente competitive sia la National League Central sia la National League West ma ovviamente ne parleremo dopo nella panoramica delle classifiche della MLB c'è un altro aspetto però di cui bisogna assolutamente parlare ed è quello che succede sul monte di lancio qui abbiamo visto ancora una volta l'ennesima new hit di questa stagione come abbiamo visto dall'articolo precedente è la settima soltanto nel 2021 e siamo evidentemente a un passo dal record storico dell'intera MLB già a partire dall'era moderna e per era moderna io intendo almeno il 1880 ovviamente come dicevo però prima la MLB si è un po' stufata di vedere queste prestazioni dei lanciatori così sontuose e così over performanti mi verrebbe da dire e dunque c'è stato un giro di vite incredibile sui controlli dei materiali qui vediamo un'immagine molto emblematica Sergio Romo lanciatore messicano degli Oakland Athletics viene controllato nelle componenti dei suoi materiali in particolare guantone e cappellino l'oggetto del contendere semplicemente per farla molto breve qual è si suppone che alcuni lanciatori utilizzino alcuni particolari tipi di sostanze che permettano alla pallina di avere un grip migliore e di conseguenza un controllo migliore nel lancio dell'atleta un lancio ovviamente più in controllo va evidentemente a finire in zone di strike più difficilmente raggiungibili per il battitore e di conseguenza si dovrebbe spiegare così secondo ovviamente quest'ipotesi lo sgonfiarsi improvviso dell'attacco della formazione avversaria con un netto dominio dei lanciatori vedremo poi anche dal punto di vista statistico come effettivamente questa sia una stagione più di lanciatori che di attaccanti che è un po' una controtendenza rispetto alle stagioni precedenti dove ovviamente si cercava il fuoricampo incredibile le statistiche offensive migliori in assoluto mentre appunto un po' per il cambio delle palline che è stato appunto introdotto quest'anno un po' per questa ipotesi di sostanze evidentemente proibite evidentemente si ha in questi due fattori il motivo per cui molti lanciatori o stanno performando a livelli incredibili oppure stanno avendo letteralmente la stagione della vita ed è il caso per esempio di un lanciatore di Milwaukee di cui parleremo dopo qui Sergio Romo viene appunto controllato nella maggioranza dei casi non sono arrivate notizie evidentemente di materiale contraffatto il problema è che molto spesso di questa cosa se ne abusa e anche parecchio soprattutto quando sul monte di lanci ci sono dei lanciatori di un certo livello e l'esempio più lampante è quello di Max Scherzer e lo andiamo a vedere grazie anche all'articolo di freepress.it l'oggetto del contender è appunto ancora una volta il controllo dei materiali in particolare il cappello di Scherzer che evidentemente secondo il manager di Philadelphia Phillies che è Joe Girardi ex New York Yankees era evidentemente una qualcosa da esaminare e Max Scherzer in realtà viene portato allo stremo un po' da questi controlli arbitrali Joe Girardi a dire la verità ne abusa fino all'inverosimile perché in 4 inning viene controllato addirittura 3 volte e viene spiegato benissimo in questo articolo che vi invito a recuperare si va quasi evidentemente anche a utilizzare questi controlli per mandare in tilt tra virgolette psicologico il lanciatore avversario e soprattutto un lanciatore che è un asso della rotazione in particolare appunto Max Scherzer è un lanciatore che per chi conosce il gioco del baseball non avrebbe bisogno nemmeno di tante presentazioni ed evidentemente appunto il fatto che Girardi abbia insistito su questa cosa un po' evidentemente per motivi psicologici un po' perché evidentemente era convinto che in quel momento la presentazione di Scherzer non era propriamente secondo lui regolare dal mio punto di vista bisognerebbe lasciare tempo e spazio evidentemente agli esperti per giudicare queste eventuali irregolarità peraltro non sono eventuali irregolarità che si giudicano subito ma ci vuole ovviamente del tempo io in diretto ho visto una partita che vedeva di fronte i Solis Cardinals contro se non sbaglio Detroit Tigers una partita di Interlega con un lanciatore messicano Giovanni Gallegos che venne di fatto obbligato a cambiarsi il cappellino prima di salire sul monte di lancio il cappellino è stato evidentemente archiviato e sarà sottoposto a delle analisi che però porteranno i risultati evidentemente molto in là nel tempo quindi al momento possiamo semplicemente registrare un po' un accanimento di questo giro di vite dell'MLB che in realtà è giusto per avere una sorta di equilibrio tra le due componenti e ovviamente punire eventuali irregolarità non mi piace onestamente come per esempio nel caso di Max Scherzer l'allenatore avversario in questo caso quello dei Philadelphia Felix abbia abusato dell'arregolamento per chiamare la quaterna arbitrale per usare un termine calcistico per controllare i materiali di Scherzer, guantone e cappellino e in realtà è una cosa che si vede per la verità su tanti campi da gioco per esempio io mi ricordo un lanciatore di Baltimore che ha esoldito veramente da poco un lanciatore peraltro di Knuckleball e fa già ridere così controllato prima che salisse sul monte di lancio per vedere effettivamente se guantone e cappellino erano regolamentari e fa abbastanza ridere appunto perché il lancio della Knuckleball non ha uno spin della palla cosa che invece ha un lancio tipo per esempio la palla veloce, la slider e la curva la Knuckleball appunto essendo lanciata con le nocche è un lancio che di fatto arriva a casa base da fermo e dunque non ha bisogno eventualmente di come dire, artifici per aumentarne lo spin visto che di fatto lo spin non ne ha è stata una cosa tragicomica mi verrebbe da dire, per fortuna si è risolto tutto e niente ma appunto è ancora una volta segno di come evidentemente la Lega della MLB stia dando molta molta attenzione a questo aspetto peraltro nella partita della Philadelphia contro Washington evidentemente Girardi a memoria è stato espulso comunque tante polemiche appunto che si sono protratte il discorso diverso invece va fatto per altri lanciatori perché per esempio Blake Snell è stato controllato e ovviamente ha dichiarato evidentemente che non ci sono sostanze illegali che appunto lo contraddistinguono lo stesso discorso di fatto per Shoyotani e Jacob DeGrom di cui peraltro parleremo tra poco perché stanno combinando chi in un verso e chi per un altro qualcosa di fantascientifico una stagione allucinante dei due lanciatori anche se uno in realtà due robe discreti in battuta le farebbe anche torniamo però a ritroso e andiamo a vedere le classifiche vi ricordo classifiche aggiornate alla giornata di ieri quindi il primo luglio e andiamo a vedere quelle che sono un po' le squadre in testa i top e i flop di questa stagione regolare per quanto riguarda ovviamente la stagione fino ad oggi quindi ovviamente anche voi negli eventuali commenti fatemi sapere se le vostre squadre favorite vi stanno dando una stagione soddisfacente e se vi aspettavate qualcosa di più o qualcosa di meno sicuramente io non mi aspettavo una Boston così competitiva è stata la prima squadra in assoluto in MLB a raggiungere le 50 vittorie è successo questo nella giornata di ieri una partita molto importante è stata l'ultima che appunto ha suggellato la 50esima vittoria che ha suggellato appunto ha seguito meglio la serie contro gli Yankees dove peraltro Boston sta dando anche la paga perché è capitato per due volte consecutive che i Red Sox sweepassero gli Yankees nella rivalry lo sweep per chi non conoscesse appunto gli sport americani è un termine tecnico che indica la vittoria a zero nella serie di solito si giocano tre o quattro partite dunque lo sweep è quando una squadra vince in questo caso 3 a 0 ma anche 4 o 2 a 0 non fa molta differenza sono 51 le vittorie per i Boston Red Sox 31 le sconfitte sono la formazione più in salute della Lega incredibilmente perché appunto sono addirittura 7 le vittorie consecutive per la formazione del Massachusetts l'ultima peraltro arrivata contro Oakland 8-2 nelle ultime 10 signori i Boston Red Sox sono uno dei top di questa stagione c'è poco da fare hanno un attacco veramente incredibile hanno un monte di lancio solido ed è abbastanza strana una cosa del genere per non dire comunque sorprendente perché i Boston Red Sox erano di quelle squadre che nei prossimi della vigilia erano un gigantesco punto di domanda e si diceva tanto dei Boston Red Sox se evidentemente andranno a incastrare tutte le incognite allora potranno fare una stagione molto positiva cosa che sta succedendo per davvero per la gioia di tutti i tifosi dei Boston Red Sox secondi nell'American League East sono i Tampa Bay Rays che nell'ultima volta che ho visto quella contro i Los Angeles Angels ce li hanno schiantati 13-3 sono una squadra veramente bella da vedere non stanno però ripetendo la stagione regolare degli anni scorsi ma sono comunque secondi a 47 vittorie 34 sconfitte hanno una striscia aperta di 3 sconfitte di fila negli ultimi 10 sono 4 vinte e 6 perse dei Tampa Bay Rays però si parla e tanto perché sono una tipica squadra che paga poco i loro giocatori ma sanno estrapolare il meglio dai loro stessi vendono pezzi pregiati qua e là l'ultima trade ha riguardato lo shortstop Willie Adams che è andato ai Milwaukee Brewers delle meraviglie il problema è che i Tampa Bay Rays in cambio hanno avuto questo ragazzo qui e lo andiamo a vedere subito Wander Franco uno dei prospetti più hyped della Lega fin dai tempi di Fernando Tatis Jr. e Vladimir Guerrero Jr. che diciamo due robe discrete sul diamante le sanno fare Wander Franco è un dominicano del 2001 è il primo nato nel 2001 ad aver esordito nella Major League Baseball e subito pronti via alla prima partita contro i Boston Red Sox ha sparato fuori la pallina oltre alle recinzioni del Tropicana Field per il primo fuoricampo della catiera per altro fuoricampo che aveva un leggero peso specifico quello del panico della partita un fuoricampo da tre punti fondamentale per Wander Franco che per la verità va detto che dopo quella prestazione si è molto molto sgonfiato perché infatti le loro statistiche sono queste 194 di media battuta un fuoricampo 5 RBI ma ripeto il ragazzo è giovanissimo e sarà presumibilmente l'interbase del futuro della MLB in una stagione in un'era meglio della MLB che sta sfornando giocatori veramente giovani molto estroversi diciamo così e di una qualità pazzesca basti pensare che per Wander Franco gli scouting reports recitavano un punteggio massimo di 80 su 80 punteggio eventualmente da eventuale fenomeno dunque evidentemente Franco andrà un attimo ad ambientarsi in questa sezione da rookie per poi eventualmente esplodere negli ultimi nei prossimi scusatemi due o tre anni ed è comunque molto molto significativo come i Tampa Bay Rays abbiano subito investito su questo ragazzino di fatto perché appunto è del 2001 e quindi attenzione al dominicano per i prossimi anni peraltro poi di Repubblica Dominicana la nazionale di baseball si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo battendo il Venezuela in un torneo di baseball che ovviamente non vedrà l'elite appunto perché l'MLB prosegue e l'MLB non manda i giocatori ovviamente della loro lega a rappresentare i propri nazionali però comunque è un torneo molto interessante con Stati Uniti, Giappone, le sudamericane insomma tanta tanta roba purtroppo non ci sarà l'Italia ma l'Italia sarà presente invece nel torneo femminile di softball e invece lì attenzione ragazzi perché ci divertiremo e non poco ovviamente così dato che appunto oltre l'Italia abbiamo Stati Uniti, Canada, il Giappone anche lì le sudamericane veramente tanta tanta roba tornando invece nella MLB dobbiamo segnalare che i Toronto Blue Jays sono a 41 vinte e 38 perse anche loro sono in striscia aperta due sconfitte di fila ma sono 7 a 3 nelle ultime 10 e attenzione perché nell'anno un record del genere nel proseguio della stagione può essere molto molto importante soprattutto per la lotta wild card che oramai si accenderà dopo la 3 Day Drain evidentemente che sarà il 31 luglio e ovviamente lì ne parleremo con molta calma nel recap di agosto Toronto è una squadra molto futuribile che sta ponendo le basi secondo me per creare una squadra molto interessante per i playoff ha un Vladimir Guerrero Junior che sta facendo veramente il bello e il cattivo tempo peraltro Guerrero Junior è già arrivato alla quota 50 di fuoricampo nella carriera che peraltro li ha raggiunti nello stesso giorno in cui le raggiunse suo papà il leggendario Vladimir Guerrero Senior che appunto giocò una vita nei Montreal Expos dove peraltro è nato ovviamente aragraficamente Vladimir Guerrero Junior e infatti per questo motivo essendo nato a Montreal Guerrero Junior è canadese ma sono evidenti le origini dominicane del ragazzo i New York Yankees sono un po' nel limbo invece appena sotto i Toronto Blue Jays con 41 vinte e 39 perse 4-6 nelle ultime 10 stesso record nelle ultime 10 dei poveri Baltimore Orioles che sono fanta ultimi 20 pari di distacco dai Boston Red Sox ma ovviamente da Baltimore non ci si poteva aspettare niente di diverso che da questa stagione ovviamente di tanking e di rifondazione passiamo alla American League Central dove ci sono i Chicago Red Sox del giovane Tony Larussa in testa alla classifica con 48 vinte e 32 perse 4 vittorie consecutive per risonare un record di 5 vinte e 5 perse nelle ultime 10 la squadra appunto del leggendario manager che vinse con St. Louis la World Series nel 2011 prima di andare tra virgolette in pensione per poi tornare 10 anni dopo sta veramente stupendo e come dicevo nel video scorso è una squadra che avrebbe anche 2 o 3 pezzi fuori per infortunio due nomi a caso Luis Robert e Eloy Jimenez i Cleveland Indians sono secondi a 42 vinte e 36 perse con 3 partite e mezzo di distacco ma striscia aperta dei 3 sconfitti di fila terzi sono incredibili Detroit Tigers mi verrebbe da dire squadra che è adatta veramente ai penultimi posti sono negli ultimi posti di tutte le classifiche pre-campionato 36 vittorie e 45 sconfitte è un record comunque più che dignitoso va detto che in realtà l'American League Central sta diventando una division sempre meno competitiva un po' complice il flop di Minnesota è qualcosa di inspiegabile 33 vittorie e 46 sconfitte per la formazione di Minneapolis e ultimi sono i Kansas City Royals con 33 vinte e 47 perse è evidente come beneggiata sia la delusione più grande probabilmente di tutta l'intera MLB perché è una squadra che è stata costruita non per andare ai playoff ma addirittura per arrivare alle finals è incredibile come effettivamente se la debba lottare con Kansas City con Detroit che gli ha anche davanti squadre che sono da anni in tanking puro in rifondazione pura e non si stanno cavando un ragno dal buco evidentemente un po' gli infortuni che sono stati tanti e ripetuti per esempio quelli dell'uomo che porta la pioggia Josh Donaldson vedi per esempio quelli di Max Kepler un monte di lancio che è mancato in particolare per esempio con Kenta Maeda con Joseber Rios insomma veramente manca tanto apporto da entrambi i fattori Miguel Sanó è un giocatore che difensivamente l'ho visto in terza base di recente fa molta molta fatica in prima base va meglio il problema è che anche in attacco Sanó non è più un fattore o quantomeno lo è molto meno degli anni passati e di conseguenza anche per questo benato ha raccolto soltanto le stesse vittorie appunto dei Kansas City Royals che però un po' ti ha gli aspetti che siano evidentemente in questa situazione visto che nel corso degli anni hanno venduto i prezzi più pregiati American League West per concludere la panoramica sull'American League parliamo degli Houston Astros che sono la squadra più adatta della Lega evidentemente in questo momento visto il famoso caso dei segnali rubati con i bidoni della spazzatura 49 vinte 33 perse per la formazione di Dusty Baker Jr che comunque sta facendo una stagione comunque a livello degli Houston Astros perché al di là del fatto di essere giustamente la squadra più adatta della Lega sono una squadra forte da non trascurare mai sono una macchina da playoff oramai è anni che da quando hanno completato il processo di rifondazione gli Astros puntano ai playoff e ci arrivano sistematicamente e sono veramente lanciati per riuscirci al netto che una division come questa è molto competitiva perché abbiamo gli Oakland Athletics che anche loro sono una squadra un po' nel ciclone ma per altri motivi sono secondi a 48 vinte e 35 perse Oakland che peraltro è stata minacciata sia dall'MLB sia con messaggi un po' particolari del loro patrone che è andato a Las Vegas a vedere la semifinale dei playoff dicendo che Las Vegas era una città molto interessante per lo sport in pratica c'è una minaccia da parte un po' della MLB e in generale si manifesta questa volontà di spostare la franchigia da Oakland evidentemente a Las Vegas che ha già preso la squadra di football dei Raiders l'altra voce è quella di spostare Oakland come franchigia a Portland che avrebbe comunque uno stadio anche lì molto più funzionale rispetto a quello schifo mi verrebbe da dire dell'Oakland Coliseum che un tempo era anche il campo da football degli Oakland Raiders adesso è solo un campo da baseball ma è abbastanza vetusto e su questa cosa l'MLB ci ha sempre puntato tanto ovvero a puntare a stadi moderni e obiettivamente al passo con i tempi dunque vedremo se un domani Oakland avrà una nuova sede che sia Las Vegas o che sia Portland resta il fatto che anche Oakland è una squadra della madonna perché ha un attacco straordinario ha trovato un miglioramento incredibile in Matt Olson uno dei miei giocatori preferiti di questa MLB un prima base che era il classico vallatore di potenza cioè quindi poca media battuta ma tanti tanti super pepi qui fa ancora una volta tanti tanti super pepi il problema è che raggiunge anche la media battuta e quindi attenzione a Oakland e al duello con Houston i sorprendenti Seattle Mariners sono terzi record ampiamente sopra il 50% per la formazione dello stato di Washington 43 vinte 39 perse 2 vinte di fila 7-3 nelle ultime 10 attenzione a Seattle che se tutto va come il verso giusto potrebbe addirittura puntare alla wildcard nella speranza della formazione che non va veramente da tempo in memoria quarti sono i Los Angeles Angels che sono una squadra veramente indecifrabile perché a nomi sembrerebbero una squadra che potrebbero vincere il gioco e non solo e invece sono mestamente quarti 39 vinte 41 perse con una vittoria nell'ultima partita ma 4 vinte e 6 perse nelle ultime 10 chiudono i Texas Rangers con un record molto positivo nelle ultime 10 7 vinte e 3 perse ma complessivamente siamo a 32 vinte 49 perse anche Texas in realtà è una squadra in puro tanking chi però sta veramente sorprendendo e non è assolutamente in puro tanking è questo ragazzo qui è ancora una volta quello che è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto di questa MLB 2021 e non solo che è Showtime cioè Otani è veramente un giocatore pazzesco è un giocatore che come prototipo sta ricordando The Bambino Babe Ruth perché all'epoca Babe Ruth lanciava e batteva come un dio e Otani più o meno sta ripetendo queste situazioni qui nel 2021 al momento come lanciatore è 3 vinte una persa 360 di media I.A.R.A. che come punti con il lanciatore è assolutamente più che positivo il problema è che questo ragazzo saprebbe anche battere e batte come un semidio perché è arrivato addirittura a 28 fuoricampo in stagione e è addirittura il leader di tutta la Lega e questo di mestiere farebbe il lanciatore uno che di base non è in grado di battere per ovvi motivi visto il lavoro maniacale che fanno i lanciatori della Major League Baseball a maggior ragione si sa in American League dove c'è la regola del battitore disegnato che di fatto sostituisce sempre si vede magari invece qualche lanciatore che sa battere anche meglio di una città di American League ma non ad arrivare a cifre da Vladimir Guerrero da Fernando Tatis insomma cifre veramente allucinanti per un giocatore che veramente faccio fatica a spiegarmi e che ammiro tutte le volte in televisione su Sky e rimango obiettivamente stupito una delle partite che appunto ha preceduto la serie contro Tampa Bay dove peraltro Otani e compagni hanno perso 13 a 3 nella partita precedente vinta comunque la Tampa Otani si è concesso di fare fuori campo al primo turno di battuta molto bene ma anche bant spinto al secondo turno che è praticamente l'opposto del fuori campo una smorzata con la mazza a 45 gradi sul terreno di gioco per fare una valida in campo interno peraltro Otani è anche un ragazzo che corre parecchio tant'è vero che insieme a Fernando Tatis Jr e Vladimir Guerrero Jr è uno dei tre giocatori che ha più di 25 fuori campo e più di 10 basi rubate in stagione finita l'American League passiamo alla National League e signori io lo dico potremmo già chiudere il campionato in questa situazione perché i miei New York Mets sono al primo posto della National League East e vorrebbe dire qualificazione e playoff va detto che la divisione adesso sta diventando ancora più competitiva complici diversi fattori complici una Washington in salute complici gli ennesimi infortuni di New York Mets e tutte le altre squadre della National League East sono assolutamente squadre non trascurabili la classifica comunque recita questo New York Mets primi 41 vinte 36 perse trionfo assoluto anche se purtroppo veniamo da due sconfitte consecutive contro il Philadelphia Phillies secondi sono i Washington Nationals che hanno una striscia aperta di 7 vinte e 3 perse si sono svegliati come era prevedibile perché Washington è una squadra che può tranquillamente puntare ai playoff peraltro nella partita di due giorni fa Trey Turner nel giorno del suo 28esimo compleanno peraltro auguri Trey ha compiuto un cycle un'impresa veramente incredibile il cycle per chi non conosce il gioco del baseball è collezionare un singolo un doppio un triplo e un fuoricampo nella stessa partita e dunque prestazione più incredibile e migliore di Trey Turner non ci poteva essere terzi sono gli Atlanta Braves 39 vinte 41 perse a vari merito quasi con due vittorie in meno ci sono i Philadelphia Phillies che sono quarti 37 vinte e 41 perse chiudono i Miami Marnes che sono a 34 vinte e 45 perse ecco Miami è evidentemente la squadra probabilmente un po' più tagliata fuori visto che sono a 8 partita di distanza dalla vetta è una squadra che anche lei è in rifondazione però tutte le altre squadre sono molto competitive perché in 4 partita in me ci sono 4 squadre e dunque attenzione soprattutto alle mosse di mercato di queste formazioni perché alla 3 day drain sarà importante vedere le squadre che saranno ancora in gioco non mi aspetto in nessuna di queste squadre della division che ci siano dei venditori anzi mi aspetto che arrivino dei compratori per giocatori di sistema per giocatori che possano aumentare magari la votazione dei partenti per quanto riguarda per esempio i New York Mets che hanno praticamente 3 partenti buoni che sono Walker De Grom e prima c'era Peterson che poi si è fatto male pure lui e dunque molto spesso i Mets hanno un po' deficitato a causa anche questa incredibile sfiga di infortuni mentre Washington sembra la squadra più lanciata vero ha perso l'ultima partita però 7-3 nelle ultime 10 è un record assolutamente positivo Atlanta e Philadelphia sono un po' nella terra di nessuno però sono squadre veramente temibili così com'è temibile questo signore Jacob De Grom che più passa il tempo più io mi stupisco della stagione irreale che sta avendo perché un ragazzo che fino a qualche partita fa ha concedo soltanto 4.4 letteralmente in tutta la stagione regolare e ne ha portato a casa 6 per la sua squadra qualcosa di veramente incredibile veramente tenga a galla di fatto i New York Mets perché se non ci fosse De Grom i New York Mets sarebbero un po' più in basso in questa classifica le statistiche sono davanti agli occhi di tutti 7 vinte e 2 persi una media pigelli di neanche un punto a partita cioè vuol dire che di fatto quando scende lui o sono partite che finiscono 0-0 e magari si incidono negli extra inning o quando scende De Grom dal mutililancio oppure è una vittoria praticamente sicura in realtà la percentuale è il 50% perché come vediamo sono 14 partite lanciate da De Grom vinte soltanto 7 2 perse tutte le altre appunto decise appunto quando il lanciatore della Florida è sceso dal campo di gioco ed è comunque De Grom il caso di un altro lanciatore che comunque sa battere molto molto bene lo vediamo nelle medie battute non paragoniamolo ovviamente a Otani perché Otani è un battitore che per sbaglio lancia De Grom è uno che sa lanciare e battere molto bene le statistiche lo dimostrano 387 di media battuta è una media battuta che gran parte dei battitori si sognerebbe certo sono pochi toni di battuta però ricordiamo che De Grom di mestiere farebbe il lanciatore ci sono appunto 6 RBI che sono molti ma molti di più rispetto a quanti ne ha subiti De Grom nell'intera stagione De Grom probabilmente dovrebbe vincere non uno ma ben due Cy Young per quello che sta facendo io sono esterrefatto e sto veramente godendo nel vederlo nella mia squadra del cuore New York Mets spero che la dirigenza che comunque ha fatto tantissimi investimenti in particolare sull'indoor che per ora è un investimento comunque abbastanza azzeccato possa fare quello sforzo in più per puntellare una rosa che di potenziale comunque ha dimostrato di averne i Mets da tempo in memore sono primi nella division certo hanno perso un po' di vantaggio rispetto a Washington ma comunque le credenziali ci sono e io mi aspetto onestamente un duello con i campioni in carica del 2019 per arrivare ai playoff perché qui purtroppo non si parlerà difficilmente di wildcard perché le altre division sono oltremodo competitive e adesso ne andiamo a parlare National League Central in particolare i sorprendenti Milwaukee Brewers sono primi con 49 vinte e 33 perse 9 vittorie di fila per la formazione del Wisconsin con una streak di 9 vinte e una persa nelle ultime 10 veramente Milwaukee sta veramente facendo la stagione dell'anno e meriterebbe evidentemente di arrivare a giocarsi i playoff ed arrivarci dopo che hanno sfiorato la finale nel 2018 perdendo contro i Dodgers secondo i suoi Chicago Cubs che abbiamo già parlato per quanto riguarda l'anno hit combinata di squadra con contro le vinte 39 perse purtroppo sono in una striscia aperta di 6 sconfitte di fila Sissinati Rez sorprendenti anche loro 50% di vittorie un'altra squadra che era molto nella teca di nessuno ma sta sfruttando giocatori molto molto importanti in particolare Nicolas Castellanos che ha il quinto miglior rendimento in battuta della Lega ma anche Jesse Winkler che è un signor fuoricampista per tenere sul monte una squadra veramente interessante come i Rez che obiettivamente possono ripartire da queste basi per ricostruire deludono molto i San Luis Cardinals che per gran parte dei primi 2-3 mesi di stagione erano a giocarsela con Chicago e con Milwaukee e invece stanno un po' perdendo colpi sono 4 vinte e 6 perse nelle ultime 10 40 vinte quanto a 2 totali 9 partite di distacco evidentemente dai Milwaukee Brewers chiudono i Pittsburgh Pirates che se la giocano con i Baltimore Orioles per la squadra che tenca di più e che appunto evidentemente va in rifondazione nella speranza di fare una stagione migliore per i prossimi anni parlavamo dei lanciatori sorprendenti e sicuramente Brandon Woodruff è uno di questi lui è uno dei classici lanciatori che secondo me sta facendo la stagione della vita ci sono statistiche incredibili per il classe 93 7 vinte e 3 perse su 16 partite giocate 1 e 87 di media I.R.A. che è una media fenomenale dimenticatevi The Grom che è qualcosa di fantascientifico 1 e 87 vuol dire essere veramente in lista per il Cy Young Award Woodruff è un lanciatore che è sempre stato nell'organizzazione dei Milwaukee Brewers e non ha mai raccolto stagioni così performanti uno dei motivi per cui Milwaukee sta andando bene è sicuramente la prestazione di Woody che appunto sta facendo una stagione pazzesca e mi auguro possa continuare su questi livelli comunque i Brewers sono primi e appunto puntano ad avere una stagione molto molto interessante per quanto riguarda questa parte che arriverà dopo Lost Star Game 2021 è una division che è equilibrata ma secondo me anche questa National League Central sarà una division dove non uscirà una wild card semplicemente perché nella National League West stanno facendo di tutto e di più con i San Francisco Giants primi con mezza partita di distacco sui Los Angeles Dodgers che erano partiti ripeto con tutte le credenziali positive del caso dovevano vincere stravincere e per vincere invece se la stanno giocando contro i sorprendenti San Francisco Giants c'è una partita di fatto di distanza tra le due formazioni va detto che i Dodgers in realtà sono la squadra più in salute in questo momento della Lega dopo i Boston Red Sox come vediamo sei vinte di fila per la formazione Los Angelina mentre i Giants di contrappasso vengono da quattro sconfitti di fila e hanno perso dunque il vantaggio che avevano fino a qualche partita fa a terzi sono i San Diego Padres o gli Slam Diego Padres visto la grande quantità di fuoricampisti che hanno con 49 vinte 34 perse chiudono Colorado con 35 e 47 come record e ultimi gli Arizona Diamondbacks con soltanto 23 vinte in stagione purtroppo c'è stato un record negativo degli Arizona Diamondbacks che hanno avuto 15 partite consecutive perse in casa addirittura 24 totali e sono riusciti a spezzare a metà del mese scorso la serie di sconfitte consecutive segno che appunto è già compromessa la stagione per i D-backs che peraltro avrebbero anche del potenziale in realtà vedendo il roster purtroppo è una stagione imbroccata male l'unico lampo è stata la no hit su set ending di Marison Bangarner e purtroppo ci fermiamo vedremo evidentemente cosa combineranno gli Arizona Diamondbacks se potranno evidentemente cedere qualche pezzo pregiato a qualche altra squadra per poi evidentemente sistemare quello che non va nella off-season 2022 parliamo invece ancora una volta della off-season scusatemi regular season ovviamente 2021 parlando degli all-star perché appunto come dicevo all'inizio a Denver a metà luglio si terrà il Mid-Summer Classic 2021 l'all-star game appunto che è stato inizialmente fissato ad Atlanta-Georgia è stato poi spostato a Denver-Colorado e adesso andiamo a vedere chi sono appunto gli starter per quanto riguarda le due formazioni si scontreranno vi ricordo American League contro National League nel campo del Cors Field un all-star game che per la verità non darà più un valore aggiunto che c'era negli anni passati ovvero quello del dare il fattore campo alla lega vincente della partita ovviamente fattore campo riferito alle World Series quindi se avesse vinto per esempio la squadra della National League si sarebbe giocato al meglio delle sette partite col fattore campo sulla National League e ovviamente viceversa adesso invece come anche le altre leghe americane si guarda il miglior record al termine della regular season i ricevitori partenti sono per l'American League Salvador Perez Kansas City Royals che di fatto è la bandiera se possiamo usare questo termine della formazione che vinse il titolo nel 2015 tutti se ne sono andati da Lorenzo Cain a Eric Osmer passando per altri giocatori fondamentali del sistema vedi per esempio Alex Gordon Salvador Perez è rimasto lì e sta ancora una volta confermando di essere un giocatore di livello tanto è vero che partirà titolare nell'All-Star Game 2021 dall'altra parte avremo Buster Posey che è anche lui uno dei giocatori più importanti di know-how diciamo di tutta la lega della MLB alla quinta prestazione alla quinta partenza ovviamente in questo All-Star Game sesta invece per Salvador Perez passiamo invece ai prima base Vladimir Guerrero Jr non potrebbe essere altrimenti visto che è il leader dei fuoricampo della American League prima che ovviamente lo superasse Shai Otani ma i numeri di Guerrero Jr sono assolutamente allucinanti come sono buonissimi i numeri di Freddie Freeman prima base canadese degli Atlanta Braves che partirà ancora una volta titolare terza partenza ovviamente per Freeman all'All-Star Game mentre la prima per Vladimir Guerrero Jr in seconda base un altro giocatore dei Toronto Blue Jays che appunto come dicevo è una squadra molto molto interessante ma comunque piazzano due giocatori nel roster degli All-Star che sono Marco Simeone che è un grande veterano soprattutto per quanto riguarda gli Oakland Athletics nella prima parte della carriera è arrivato a Toronto come utility player come giocatore esperto è una mazza comunque molto molto calda e infatti lo si vede difensivamente poi Simian non ha bisogno di presentazioni è un signor difensore e dunque si merita la prima convocazione e la prima partenza all'All-Star Game così come è la prima partenza per Adam Frazier che è uno dei pochi raggi di luce dei Pittsburgh Pirates veramente è un onore secondo me per i Pirates avere un titolare dell'All-Star Game ma le statistiche sono assolutamente molto molto interessanti in particolare la media battuta è 327 con una OPB di 395 un OPS di 471 e soprattutto una personale di strikeout per Adam Frazier molto molto bassa 11,1% su tutti i turni di battuta veramente grandi statistiche per quanto riguarda il giocatore dei Pittsburgh Pirates in terza base abbiamo Raphael Devers anche lui ha il debutto alla partenza dell'All-Star Game terza base dei boss Red Sox delle meraviglie quarta partenza invece per Nolan Arenado che è stato il colpo dei St. Louis Coordinates di questa stagione il colpo venuto da Colorado in cambio di un sacco di prospetti e eventualmente anche un sacco di scelte dei draft futuri di fatto per niente considerato che appunto Arenado era in Colorado che quindi stava di fatto rifondando in interbase un altro giocatore di Red Sox l'olandese Xander Bogerts nativo di Aruba ma comunque giocatore nazionale olandese che ovviamente anche lui è un altro giocatore da tenere d'occhio per questi boss Red Sox delle meraviglie insieme per esempio a Alex Verdugo all'Eterno JD Martinez è da tenere d'occhio ma per altri motivi Fernando Tatis Jr che non poteva non essere convocato come titolare in questa squadra della National League che insomma anche lì due giocatori discreti li avrebbe soprattutto nel ruolo di interbase e gli outfielders dunque gli esterni per l'American League tre luoghi veramente orrendi Mike Trout Aaron Judge e Teoscar Hernandez va detto che Mike Trout è quello più in incognita di tutti questi tre perché il fenomeno dei Los Angeles Angels in realtà è in lista infortuni per quanto riguarda il giocatore c'è stato un infortunio che lo ha tenuto fuori per tanto tanto tempo in teoria dovrebbe rientrare dopo lo Star Game ma va detto che comunque i runner up non sono propriamente scarsissimi perché abbiamo Michael Plenty di Byron Buxton Cedric Mullins di Baltimore che recentemente ha fatto una presa allucinante in difesa Ronald Grigio Cadolis Garcia Alex Verdugo di Boston delle meraviglie abbiamo detto prima insomma c'è spazio per essere istituiti comunque la convocazione e le votazioni lo collocherebbero come partente non penso di vedere Mike Trout come partente allo Star Game nella National League invece abbiamo Ronald Alcuna Junior che è di fatto uno dei giocatori più interessanti della Major League soprattutto per il ruolo che ha è un lead off che la sbatte fuori con una certa continuità e credo abbia uno dei migliori record di fuoricampo per quanto riguarda il lead off spot c'è la prima convocazione e la prima partenza per Nicolas Castellanos appunto premiato dalle statistiche come dicevo 346 di media battuta e leader della classifica delle valide e dei doppi di tutta la MLB segno che appunto i Rez stanno avendo una stagione sorprendente per le prestazioni soprattutto di Nicolas Castellanos e di Jesse Winkler che è il secondo estremo dei Cincinnati Rez che andrà al debutto come partente all'All-Star Game ed è il miglior fuoricampista della formazione dell'Ohio e dunque evidentemente premiato dai tifosi e non solo la prestazione dei due Rez che infatti hanno di fatto scavalcato le gerarchie Mookie Betts Chris Taylor Jock Peterson Mark Jostowski Bryce Harper e il fenomeno Juan Soto dei Washington Nationals i battitori disegnati non ci poteva che non essere Shwayo Tani che appunto se non sbaglio farà sia una parte da lanciatore sia una parte da DH ma partirà in battuta per i motivi che ho detto prima e le altre convocazioni sono state appunto J.D. Martinez e Jordan Alvarez due discreti fuoricampisti diciamo così e dunque questo è per quanto riguarda l'American League e la National League le votazioni che vi faccio scorrere dopodiché abbiamo concluso per quanto riguarda i convocati dell'Ostar Game una stagione che comunque adesso appunto con luglio e con agosto avrà i mesi più caldi i mesi estivi per migliorare queste statistiche per migliorare le stagioni e vedere soprattutto chi si rinforzerà e chi invece venderà chiudiamo con le statistiche di squadra come al solito le prime 5 migliori attacco della Lega sono dell'American League da Houston passando per i Chicago White Sox passando per i Los Angeles che comunque appunto giustificano le vittorie che hanno quando l'attacco gira nel migliore dei modi il problema degli Los Angeles se li vedremo sarà il monte di lancio discorso diverso invece va fatto per New York Mets San Luis Cardinals Chicago Cubs Seattle Mines Milwaukee Brewers che sono i peggiori attacchi della Lega ma hanno posizioni ovviamente diverse nella maggioranza dei casi sono squadre di fondo classifica o che se la giocano discorso diverso va fatto invece per i New York Mets e i Milwaukee Brewers perché sono primi ma hanno dei monti di lancio talmente dominanti che non è necessario evidentemente battere tanto ma battere di qualità permettetemi il termine per arrivare nei primi posti della divisione discorso similare ha fatto per i Chicago Cubs che sono al 28esimo spot della Lega per quanto riguarda invece i monti di lancio abbiamo come miglior e-array quindi media di punti di lanciatore i Los Angeles Dodgers anche perché per nomi e per know-how evidentemente non poteva che essere altrimenti ci sono poi i San Francisco Giants che abbiamo visto prima avere una prestazione incredibile curiosamente le prime tre di questa classifica sono le tre della National League West che infatti hanno i record più alti evidentemente della Lega appena dietro i Boston Red Sox però deficitano un attimino di più dal monte di lancio i Miami New York Mets sono quarti e quindi sono i Miami Marlins che comunque sono in linea di galleggimento per questo importante fattore in fondo invece dovremmo squadre che sono o in fondo alla classifica del loro division oppure hanno in altre caratteristiche diciamo il loro punto di forza non è il caso dei Minnesota Twins però non è il caso degli Los Angeles Angels che appunto dicevo sono quarti per quel motivo e anche i Minnesota Twins per lo stesso motivo e poi in fondo abbiamo Cassa City Arizona e Baltimore molto prevedibili in realtà perché sono tutte e tre squadre evidentemente in piena rifondazione che mi auguro di rivedere nel migliore dei modi nelle prossime stagioni in ogni caso questo è stato un bel bilancio secondo me della stagione fino in questo momento in attesa dello Star Game che di fatto segnerà lo spartiacco di questa stagione 2021 i miei New York Mets per essere diciamo obiettivi sono comunque una stagione nelle aspettative tutto sommato perché la proprietà ha fatto un bel investimento ha puntato sull'Indoor ha puntato su tanti giocatori per provare a fare una squadra competitiva la squadra al momento è competitiva non è nel miglior momento ma con gli investimenti giusti anche nella deadline del mercato può sicuramente fare meglio le mie sorprese sono i Milwaukee Brewers i San Francisco Giants i Boston Red Sox le delusioni sicuramente sono minnesota per tanti motivi perché non si spiega una squadra del genere sono delusioni a mio avviso anche gli Yankees che ok hanno gli infortuni però una squadra di questo tipo non può competere per le posizioni che di fatto non contano direi delusione anche a St. Louis per lo stesso motivo degli Yankees titolati tanto creati per provare a tornare ai playoff e invece stanno arrancando a discapito di squadre meno quotate vedi per esempio appunto i leggendari Sinsendati Reals in ogni caso questo è stato il recap della mese di giugno della Major League Baseball Review e dunque vi do appuntamento al mese prossimo all'inizio di agosto per parlare della third day per parlare della nuova parte di stagione che appunto inizierà dopo lo Star Game in ogni caso fatemi sapere cosa ne è pensato di questo podcast di questo video analisi della MLB che appunto tornerà l'inizio di agosto con il nuovo appuntamento il saluto da parte di me Tutorgaard iscrivetevi se ancora non l'avete fatto condividete il video anche ai vostri amici ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video